Ciao ragazzi e benvenuti in questo quinto Nerd Place, c'è posta per nerd. Questa serie di video è cambiata tante volte, dopo essere stata una serie mensile, una trimestrale, adesso è una serie semestrale, quindi un video ogni sei mesi. Uno in uscita a luglio per i primi sei mesi dell'anno e uno in uscita a gennaio per gli ultimi sei mesi dell'anno precedente, quindi in poche parole ci saranno due video di Nerd Place ogni anno. Ma direi subitissimo di iniziare perché questa volta sono sfortunato e questo è il Nerd Place di luglio per i primi sei mesi, quindi mi sto sciogliendo sulla sedia perché non posso usare nemmeno il ventilatore, altrimenti si sente in video. Anche questa volta come in molti Nerd Place i film non video la fanno da padroni, DVD, Blu-ray, Steelbook e non solo. Ed è per questo che li vedremo per ultimi, perché saranno quelli più numerosi. Prima di iniziare però come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione assieme a tutti i link di tutti i gadget, tutti gli oggetti che vedrete in questo video. Diversi store, diversi oggetti, tutto in descrizione. Ma iniziamo da Pampling. In questi sei mesi ho preso davvero poco sul sito, anche se in realtà fra qualche giorno dovrebbe arrivarmi un altro pacco, ma che vedrete a gennaio 2023. O in generale vedrete quando mi arriverà su Instagram, quindi andate a seguirmi. Per questo video invece ho preso questa t-shirt di Harry Potter solo perché effettivamente ho iniziato a seguire la saga. A inizio anno, anche se in realtà era dicembre 2021, fine dicembre 2021, e prima d'allora non avevo mai visto Harry Potter. Quindi bisognava assolutamente una t-shirt a tema, con le quattro casate di Hogwarts. Successivamente ho preso anche una t-shirt a tema Cobra Kai, che è una delle mie serie preferite di Netflix. Ho preso anche una cover, con lo stesso design. E poi, come ultima cosa, come avrete visto anche su Instagram, perché ho pubblicato un post appena arrivata, ho preso la t-shirt Stop Wars per l'iniziativa che Pampling ha voluto fare, per tutto quello che è successo e che sta ancora succedendo tra Russia e Ucraina. Tra l'altro la donazione alla Croce Rossa nei riguardi di questa cosa è arrivata a quasi 48.000 euro. Adesso, sfortunatamente, questa t-shirt non è più disponibile. Però il resto sì, ed infatti vi invito a visitare il sito di Pampling, che trovate qui sotto in descrizione, e se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello, e queste calze vi verranno regalate dal sito e dal mio codice. Un grazie in anticipo se deciderete di supportare il canale in questo modo. Passiamo poi ai poster dei film che ho visto al cinema e che in realtà sono riuscito a trovare, perché alcuni avrei voluto prenderli, ma non erano più disponibili nella sala in cui sono andato, quindi mi sono, come si suol dire, dovuto attaccare al tram. Il primo che ho preso è quello di Sonic 2, film di cui naturalmente c'è la recensione sul canale. E in realtà c'è la recensione di tutti i film che citerò adesso, eccetto uno e capirete anche il perché. Poster di Lightyear, La vera storia di Buzz, ultimo film Pixar. Poster un po' più piccolo di Elvis, che ho voluto inserire nella cornice che avevo già prima. Anche di questo film la recensione sul canale. E infine il poster di Thorloventander. E questo è naturalmente il film di cui ancora non ho parlato perché deve effettivamente uscire. Non so quando uscirà questo video, ma penso prima del 6 luglio uscirà comunque la recensione appena andrò a vederlo. Avrei tantissimo voluto avere il poster di Doctor Strange in The Multiverso Madness, di cui trovate comunque la recensione sul canale, però era già finito perché il film l'ho visto qualche giorno dopo causa Covid. Passiamo ai fumetti e ho voluto prendere il preludio a fumetti di Thor Ragnarok, che fino ad oggi è il mio film preferito di Thor, nonostante non sia il miglior film dell'MCU. In fin dei conti l'ho preso solamente perché costava 2€ e quindi perché non approfittarne? Sì, poi ho scoperto che all'interno ci sono le storie rese a fumetti dell'Incredibile Hulk e di Thor The Dark World. Però dai, comunque un fumetto a 2€. E chiudiamo già la parte dei fumetti con i tre volumoni di The Umbrella Academy, che in realtà ho preso solamente dopo aver recuperato la serie, che come avrete sicuramente visto nella recensione, e se non l'avete vista andate a vederla, è stato un po' a mura prima vista e quindi ho voluto vedere le differenze tra serie tv e fumetti e comunque leggere l'opera da cui è tratta la serie. Ho fatto anche un breve confronto nel video recensione, quindi vi consiglio di andare a recuperare quel video. Passiamo ai Funko Pop che sono un po' di più del solito, perché stavolta ho deciso di farvi vedere tutti i pop arrivati in questi sei mesi, anche se fanno parte di video unboxing già usciti sul canale, che comunque trovate ancora disponibili, quindi potete andare a vedere quei video se volete vedere i pop più nel dettaglio. E si potrà notare una cosa, sono tutti pop a tema Marvel Cinematic Universe, perché infatti ho deciso di collezionare solamente pop riguardo i film e le serie dell'MCU. Sì, sfortunatamente anche di Moon Knight, perché non voglio farmi mancare nulla. Comunque, iniziamo a vederli in ordine d'uscita dei film e delle serie. Il primo è anche un pop abbastanza importante, mi è stato inviato dal Fantasia Store, ecco qui il Funko Pop Chase di Wasp da Ant-Man and the Wasp, Talos da Captain Marvel, e questi due erano gli unici film che mancavano all'appello partendo da Avengers Infinity War, che è il punto che mi sono posto come inizio di collezione Funko Pop Marvel, eccetto Black Panther che ho voluto prendere per altri motivi. Abbiamo poi il pop di Captain America con Scudo e Mjolnir, proprio da Avengers Endgame, White Vision, visione bianco da WandaVision, il Captain America di Sam Wilson Special Edition, con tanto di ali metalliche in mostra, altro Captain America ma questa volta un po' malconcio, infatti è il Captain America Zombie da What If. Abbiamo poi tre pop da Eternals, ovvero Icaris, Cersei e Kingo, che sono i miei tre personaggi preferiti dal film. Per ultimo pop ecco qui Kate Bishop proveniente da Hawkeye, la serie Disney+, assieme al mini pop di Lucky the Pizza Dog, e infine da Spider-Man No Way Home, Ned, attendendo naturalmente i pop dei due Spider-Man di Andrew Garfield e di Tobey Maguire. Se volete uno dei pop che avete visto in questo video vi informo che potete trovarli sul Fantasia Store, link del sito in descrizione, e se userete il codice ANDRI5 avrete il 5% di sconto dopo esservi registrati al sito. Passiamo adesso però ai film in non video. Si inizierà dai DVD per poi passare ai Blu-ray, arrivare alle Steelbook e infine un'altra cosa che voglio farvi vedere. Iniziamo dal doppio DVD di Sing e Sing 2 che Universal mi ha spedito. È arrivato anche assieme altri piccoli oggetti che ora vi farò vedere iniziando intanto dagli adesivi, poi questi cosi, non saprei in realtà come chiamarli, decora matite probabilmente, comunque ci sono alcuni personaggi dai due film, e infine questa. Cos'è? Una chitarra elettrica gonfiabile. E ora sento ancora più caldo. Comunque grazie Universal per queste cose. Passiamo poi per quanto riguarda i DVD a Warner, infatti gentilmente Warner mi ha spedito la collezione dei 4 film di Matrix in DVD, la collezione di 5 film con Elvis Presley, mi raccomando non è il film Elvis che è uscito qualche giorno fa, di cui trovate la recensione e di cui avete visto il poster, ma sono 5 film con Elvis. E sono Il delinquente del rock'n'roll, anche chiamato Jailhouse Rock, Viva Las Vegas, Voglio sposarle tutte, Elvis Presley Show ed Elvis in Tour. E infine, non chiedete perché, naturalmente non l'avevo richiesto, il DVD di Me Contro Te, qual è il titolo? Persi nel tempo. Non l'ho ancora visto per vari motivi, e uno di questi è che mi manca il secondo film della trilogia. Ho visto il primo, quindi prima di vedere questo dovrò vedere il secondo, e diciamo non ho tutta questa voglia. Oh, però comunque all'interno c'era anche un magnete. Passando ai Blu-ray, gentilmente Universal mi ha spedito il Blu-ray di Halloween Kills con la versione, con il finale alternativo. Io sinceramente non ho ben capito quale delle due ho visto, so solo che non mi è piaciuto. Però naturalmente grazie mille Universal per il pensiero. Passando a Warner, sempre per i Blu-ray, iniziamo con Matrix Resurrection, l'ultimo film di Matrix, non so se ce ne saranno altri, penso di no e spero di no. Nonostante non voglio altri film, questo mi è piaciuto molto. E è arrivato poi il Blu-ray di Una Famiglia Vincente con protagonista il bravissimo picchiatore di rocce cristiane, il Blu-ray di Animali Fantastici e I Segreti di Silente, non mi ha fatto impazzire, però è un film che comunque ho apprezzato tutto sommato, e infine Warner mi ha dato la possibilità di recuperare la saga di 007 con Daniel Craig. I ragazzi di Warner infatti mi hanno spedito i 5 Blu-ray dei 5 film con Daniel Craig, ovvero Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e l'ultimo No Time to Die, e al momento ho visto solamente Casino Royale, non vedo l'ora di continuare. Dopo Warner passiamo ai Blu-ray che ho comprato, iniziando da Interstellar. Io penso che Nolan sia un bravo regista, ma ultimamente si sia un po' perso. Questo non è sicuramente uno dei suoi migliori film, ma sia la prima volta che per tutti i rewatch mi è sempre piaciuto, quindi ho voluto prenderlo anche in Blu-ray. Andiamo avanti. Siccome su Amazon il Blu-ray di It Capitolo 2 costava 2,40€, in uno degli scorsi Nerd Plays avevo fatto vedere di averlo preso, però faceva un po' strano vedere nella collezione solo It Capitolo 2. E quindi, ecco il primo It. Andando avanti su Amazon c'era un'offerta, se non sbaglio, di 8€, che comprendeva la collection che vi farò vedere adesso. I tre film in Blu-ray di Una Notte da Leoni. Naturalmente film divertenti, nulla di che, ma che riguardo volentieri. Qualche mese fa guardavo la mensola e dicevo cosa manca in questa collezione di Blu-ray? Oh, ecco cosa manca. Uno dei miei film preferiti, Edward Mani di forbice. Assieme a questo c'era la possibilità di prenderne due con un prezzo scontato che andava a sommarsi appunto a quello di Edward Mani di forbice e quindi ho preso anche il Blu-ray di Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Film divertentissimo che se non avete visto vi consiglio di recuperare. E infine passiamo all'Arrampicamuri. E non l'Arrampicamuri che vi aspettate. Il mio obiettivo finale è quello di recuperare tutti i film dell'Arrampicamuri in copia fisica. E siccome avevo già la collezione dei tre film di Raimi, il Blu-ray di Spider-Man Far From Home e quello del bellissimo Spider-Man Un Nuovo Universo, notavo e noterete anche voi che mancava qualcosa. E infatti in questi sei mesi ho preso il Blu-ray di Homecoming e nonostante tutto la collection dei due film di The Amazing Spider-Man. Fun fact. Questa sicuramente l'avrei presa molto tempo fa, se solo non fosse andata esaurita per molto tempo. Quindi un giorno girovagando per l'internet ho visto che su Zavi vendevano la collection dei due film. Allora mi sono subito affrettato, ordinata, per poi scoprire qualche giorno dopo che in realtà i film non erano doppiati. Avevo preso la versione originale, ho fatto il reclamo, i soldi sono tornati indietro e pochi giorni dopo fortunatamente è tornata disponibile la collection in italiano dei due film. Come finisce la storia? Alla fine il pacco da Zavi è comunque arrivato, quindi ho due versioni delle collection di The Amazing Spider-Man, quella in italiano, quella uscita in Italia e quella originale, con i dischi solo in inglese e senza l'italiano. Forse in realtà il primo The Amazing Spider-Man contiene la lingua italiana, ma il secondo no. Passiamo poi alle steelbook, letteralmente tutte arrivate da Warner e per questo ovviamente ringrazio i ragazzi di Warner. Sarà davvero un'impresa farvi vedere le steelbook senza far riflettere le luci che mi stanno puntando e mi stanno sciogliendo, ma ci proverò. Iniziando da Casino Royale, il primo film del James Bond di Daniel Craig che quindi oltre ad avere nella collezione dei cinque film ho anche in versione steelbook. Comunque ce l'ho fatta a non far per forza rispecchiare i ledring. Assieme alla steelbook che contiene come sempre il Blu-ray e il film in 4K, questa collection conteneva una bellissima spilletta a forma di fish e un poster orizzontale davvero carino dal film. Passando alle altre steelbook, ripeto sempre da Warner, ecco qui Matrix Resurrection, Cry Macho di cui trovate anche la recensione sul canale, Il Miglio Verde, bellissimo film che se non avete visto recuperate assolutamente, una nuova versione di Singing in the Rain conosciuto anche come Cantando sotto la pioggia e infine lui, The Batman, uno dei migliori film del 2022 fino ad oggi. Avendo quindi finito con le steelbook, passiamo all'ultima cosa, guarda un po', spedita ancora da Warner e sto parlando di questa collezione 4K e Blu-ray di Harry Potter. Contiene tutti gli otto film, ripeto, in Blu-ray e in 4K e quindi dopo aver fatto la prima visione solamente a dicembre 2021 mi tocca fare assolutamente un rewatch. Questa è la Big Custodia che contiene le altre otto custodie degli otto film, anche se naturalmente sono numerati come sette, visto che i doni della morte è stato diviso in due, e adesso una veloce carrellata delle otto copertine dei Blu-ray. Ma ragazzi, vi ricordo ancora una volta che qui sotto in descrizione oltre ai miei link dei miei social trovate i link di tutti gli oggetti, tutti i gadget che avete visto in questo video, a parte i poster, non penso di riuscire a trovare gli stessi poster che avete visto oggi perché è una cosa che fa il mio cinema, ma assieme ad alcuni link, per esempio Pumpling e Fantasia Store, ci sono anche dei codici associabili, quindi tutte le informazioni importanti sono nella descrizione. Io vi ringrazio per aver visto il video di oggi, ci vediamo al prossimo Nerd Place, c'è posta per Nerd che come ho già detto arriverà a gennaio 2023, e credo tra l'altro di essere abbastanza sicuro che non ci sarà tutto questo caldo. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!